prima cosa salve così non ci abbiamo problemi di saluti che aggiungere rispondo subito alla sollecitazione sul perché mi definisco in questo modo per onestà intellettuale le cose che uso nella mia formazione e nei miei lavori scritti e orali vengono da tradizioni femministe mi definisco in questo modo perché prendo quello che arriva da quelle e da quella lunghissima tradizione per rielaborarla e proporla soprattutto a un pubblico maschile questa è una cosa che purtroppo e lo vedremo poi nei materiali che ho preparato per voi si fa ancora troppo poco nel nostro paese tra i tanti pregiudizi che avvolgono i discorsi di genere il discorso femminista in generale c'è proprio questa volontà di confinare questi argomenti alle donne alle cose che riguardano le donne le cose delle donne e questa è la prima grossa falsità che va che va smentita la necessità di questo punto di vista diverso è appunto quella di vedere le cose da un'altra prospettiva cosa utilissima quando come succede a moltissimi uomini si è un po' troppo chiusi nella propria prospettiva immaginando che sia quella giusta che sia quella oggettiva che sia quella vera in realtà la pluralità di punti di vista è una ricchezza che andrebbe usata il più possibile in tutti gli ambiti della nostra esistenza frate come fa il filosofo almeno per i miei cinque minuti e e quindi ehm ho scoperto dalla mia esperienza personale che manca ancora moltissimo nella chiacchiera pubblica nella ehm nel senso comune che tutti e tutte abbiamo sul nostro mondo questo altro punto di vista e le cose interessanti che può dire quando ho scoperto che è qualcosa che che serve moltissimo alle persone e nell'ambito della propria vita quotidiana e negli ambiti lavorativi e in tutto quello che fanno allora ho cominciato questo lavoro di divulgatore e di formatore che evidentemente era necessario se poi eh continua a essere richiesto in questo modo anche perché e questo pure lo vedremo più avanti siamo purtroppo un paese che non sta producendo eh come dire non sta formando persone preparate su questi argomenti e questo è un altro problema ma nel problema non ci sono abbastanza competenze per la richiesta che sta salendo che sta aumentando di queste di queste competenze e anche e anche di questo parleremo abbiamo pensato di dividere la la nostra mattina di insieme in tre momenti innanzitutto per darci delle pause di respiro perché insomma lavorare ore consecutivamente sullo schermo è è pesante e soprattutto perché la parte che io spero sia più interessante poi di questo nostro incontro sia il dibattito che viene fuori dalle cose che vi propongo eh la prospettiva che cercherò di di usare in tutti e tre i momenti nei tre argomenti diciamo così diversi che affronteremo sarà quella dei problemi che si incontrano a trattare questi argomenti eh può sembrare qualcosa di estremamente specialistico in realtà è qualcosa che incontriamo quotidianamente vi posso assicurare che sono cose che non incontrano solamente hm chi si occupa di questi argomenti come può essere io può essere vera ma in effetti quindi chiunque prova a ad accennare qualcosa sugli argomenti di genere nella maniera più 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 delicata e più ehm come dire educata possibile in genere riceve eh qualche rispostaccia eh se non dei veri e propri insulti cercheremo anche di capire l'origine di questo eh di questo comportamento sociale che non è solo dovuta eh come molti affermano al mezzo perché poi queste cose succedono pure come dire al di fuori dei social cioè le rispostacce ti arrivano pure quando parli con gli amici o quando eh non so come è capitato a me nei gruppi di genitori eh della scuola che si incontrano cose che succedono anche eh dal vivo e quindi evidentemente abbiamo socialmente un qualcosa da risolvere riguardo questi argomenti ecco perché credo che chi si occupa appunto di formazione di comunicazione dovrebbe sapere come gestire queste situazioni diciamo sì un po' problematiche e quello di cui io vi parlerò stamattina è quello che viene fuori e dalla mia esperienza e dagli studi che per fortuna ci sono su su questi argomenti e su come si parla su come si dovrebbe cercare di parlare di questi argomenti che è un problema nel problema per quale motivo è bene partire da questioni di linguaggio e perché però proprio queste questioni sono quelle che apparentemente sembrano dare più fastidio sembrano ecco sollevare più eh commenti negativi e sembrano più mh limitare le libertà di qualcuno quando invece si tratta di liberare delle possibilità e però questo questo modo di lavorare viene sempre inteso più o meno al contrario di quello che dovrebbe essere come una sorta di di censura che vuole essere applicata a quello che diciamo e a quello che esprimiamo sia in forma orale che in forma scritta dunque perché eh esiste ed è così sentito un problema di eh di linguaggio dobbiamo sforzarci di ricordare che quando incontriamo un problema con i termini che vogliamo usare questo è un sintomo e non è la causa del problema cioè è il segnale che qualcosa di precedente non sta funzionando non ha funzionato e in effetti quando si tratta di questioni di genere purtroppo eh il fatto che non si riesce neanche a intendersi sui termini è sintomo di qualcosa che è già successo da tempo innanzitutto come dicevamo come abbiamo già accennato l'Italia è un paese molto indietro rispetto al resto di dei paesi occidentali eh per quanto riguarda gli studi di genere manca un dibattito diffuso su questi argomenti manca appunto eh una certa consapevolezza nel pubblico non specialistico siamo un paese che come diciamo prima non produce competenze su questi argomenti che vuol dire che non produce competenze che anche se sono studi argomenti che diciamo così in senso generale all'università si fanno non si fanno però in un particolare corso di studi in una particolare facoltà in un preciso orientamento di studio sono cose un po' sparse in diverse facoltà in diversi corsi di studi tutti hanno capito la necessità di parlare di questi argomenti però per esempio ancora non abbiamo una facoltà abbiamo mi pare tre in tutta Italia dipartimenti universitari eh che si occupano di questioni di genere tre su un terro paese effettivamente sono decisamente pochi e sono comunque dipartimenti che non a caso prendono competenze da diverse facoltà c'è sta quello che lavora a sociologia c'è quello che lavora a lettere c'è quello che lavora in diverse competenze proprio perché evidentemente manca come dire ancora una nervatura centrale un vero e proprio occuparsi di questi argomenti e questo produce un altro effetto molto sgradevole e lo affronteremo più avanti purtroppo quando parleremo degli strumenti manca ancora un vero e proprio panorama editoriale su questi argomenti cioè quando uno vuole informarsi su queste cose che ne so va in libreria e ha un problema perché potrebbe trovare potrebbe non trovare niente su questi argomenti perché poche persone nelle librerie saprebbero dove andare a cercare testi che si occupano di questi argomenti e come dire eh lo scaffale se c'è che contiene libri su questi argomenti spesso contiene cose che effettivamente non c'entrano nulla in realtà su questi argomenti oppure sono magari testi polemici testi nati su un evento di cronaca quindi effettivamente di approfondito un manuale basic su questi argomenti non si trova è difficile trovarlo nessuno sa se esiste e chi lo e chi lo produce come conseguenza di questa situazione culturale il discorso comune è pieno di pregiudizi luoghi comuni falsità banalizzazioni tutta una serie di argomenti che sono il primo come dire passo il primo ostacolo che si incontra quando tu vuoi fare comunicazione informazione su questi argomenti non ti trovi cioè un terreno come dire sgombro e libero vuoto con qualcosa di cui nessuno sa niente e tu puoi cominciare a dare concetti di base poi su questi costruire un po' degli argomenti e dare a a chi ti segue le prime informazioni magari purtroppo non è questa la situazione la prima situazione da affrontare è sgombrare il campo da tutta una serie di pregiudizi falsità luoghi comuni che letteralmente inquinano il discorso che si può fare sugli argomenti di genere il primo lavoro che devi cercare di fare quando formi quando comunichi quando ti occupi di questi argomenti è creare un terreno comune cioè chiarire che cosa che vi sembrerà fatta per l'ennesima volta ma purtroppo è ancora da fare i concetti base di questi argomenti perché purtroppo nella stragrande maggioranza di casi ci si trova davanti un pubblico che non è non solo non è preparato su questi argomenti ma è per forza di cose già mal preparato cioè già sa quelle poche cose che sa sono tutte sbagliate perché purtroppo le viene a prendere da un panorama culturale che è molto mal informato e molto mal costruito e questa è già una prima resistenza per esempio quando mi trovo a parlare nelle scuole perdo molto tempo a spiegare che no il gender non esiste non è questa cosa che cerca di far diventare i vostri figli di un orientamento sessuale oppure di un altro perché ci sono persone fermamente convinte di questo in perfetta buona fede vuol dire non parlo a a una fazione politica che ce l'ha con me parlo a persone che si informano mediamente di quello che succede e queste sono le informazioni che arrivano esattamente come per esempio in molte aziende si scambia il l'implementare politiche di genere come un difendere le minoranze non è esattamente questo e spero di dichiarirlo anche oggi con la dichiarata che facciamo stamattina non si tratta proprio di questo anche cioè questa dovrebbe essere una piacevole conseguenza dei discorsi che uno fa ma non si tratta di questo ogni volta purtroppo c'è da come dire sgombrare il capo da una serie di cose che già purtroppo sbagliate che già lo occupano che già stanno e quindi bisogna ogni volta un po ricominciare con con i concetti di base perché perché dare definizioni corrette eliminano elimina subito un problema notevole la cosiddetta polarizzazione cioè la prima cosa da far capire quando si parla di questi argomenti è che non si tratta di fare le squadre io state qua voi state là noi siamo i buoni e fuori ci sono i cattivi io sono quello che ha ragione tu sei quello che ci ha torto no quello che bisogna cercare di descrivere non è un campo da gioco appunto con le squadre che si fronteggiano ma è un campo di forze cioè il fatto che siamo in una cultura che adopera su di noi delle costanti forze sociali che cercano di definirci e di definire chi siamo chi non siamo e all'interno di questo campo di forze se noi dobbiamo cercare di orientarci in una maniera sana che ci aiuti a definire noi stessi in un certo modo che ci aiuta soprattutto a non opprimere qualcuno definendo lui in una maniera sbagliata scorretta opprimente discriminante non è che dobbiamo imparare qualche cosa perché così poi noi siamo più buoni e trattiamo meglio qualcun altro questo attuggimento di tolleranza che viene da una presupposta superiorità noi dobbiamo eliminare quella logica per la quale qualcuno deve tollerare qualcun altro è quello che non funziona dobbiamo eliminare questo questa descrizione di un ambiente nel quale devi sopportare la presenza di un'altra soggettività no non la devi sopportare devi capire che quella c'è gli stessi diritti tuoi e che se tu dai a quella soggettività i suoi diritti di esprimersi di parlare in un certo modo o se cerchiamo di adeguarci a quei diritti che quella soggettività ha di farsi nominare in un certo modo non ci sta togliando niente a noi sta semplicemente chiedendo per favore di essere nominata come vuole questo è un discorso paritario che elimina quella disparità di base che vede qualcuno tollerare qualcun altro il primo come dire la prima assunzione che va fatta che a questi condizionamenti di genere siamo sottoposti tutti e tutte non si tratta di andare a cercare il colpevole di qualcosa si tratta di renderci conto che è una condizione comune a tutti quanti e a tutte quanti indipendentemente dal proprio sesso orientamento abitudine conta nulla conta il fatto che sei immerso in una cultura che ti dice cerca di prescrivere come ti devi comportare se vuoi essere un uomo se vuoi essere una donna se vuoi essere un uomo non etero se vuoi essere una donna non etero se questi condizionamenti colpiscono chiunque il problema e riconoscerli costruire un ambiente e anche un ambiente di lavoro nel quale ciascuno riesce a essere tranquillamente se stesso senza prestare i piedi a quello che gli sta accanto usare i termini adeguati cioè lavorare sul linguaggio è in effetti già risolvere un problema un grossissimo problema perché evita tutta una serie di forze che entrano nei nostri rapporti rapporti di lavoro relazioni soggettive relazioni affettive amicali quelle che vi pare attraverso il nostro modo di esprimerci quando si fa riferimento a un problema sociale chiamato mascolonità tossica è sempre molto difficile far capire che la cosa che deve allarmare la cosa per cui è stato inventato questo termine non è maschilità perché quello già era un problema del suo bisogno di altro termine ma è la parola tossicità la parola tossicità cerca di descrivere il modo in cui questi problemi sociali legati al genere si diffondono funzionano proprio come le sostanze tossiche le sostanze tossiche disperse nell'ambiente non ti fanno male immediatamente come un veleno lo assumi e stai subito male non funzionano così le sostanze tossiche tu le assorbi in piccolissime dosi quotidianamente facendo i tuoi gesti quotidiani andando in giro respirando mangiando si accumulano nel tuo corpo e a un certo punto diverso da soggetto a soggetto cominciano a fare male cominciano a produrre la loro azione nociva la tossicità dei discorsi di genere funziona esattamente in questo modo è qualcosa che noi impariamo nella nostra normale educazione nel nostro normale rapporto con gli altri con le altre persone e a un certo punto questa cosa comincia a produrre azioni nocivi ecco perché è molto difficile poi risalire alla causa perché non è come il veleno a ecco ho bevuto questa cosa sono stato male e questa cosa che mi ha fatto male e no non è così non c'è una causa prima che possiamo identificare dire ecco è quella che fa male è qualcosa che è presente nell'ambiente in cui siamo e che noi assimiliamo in piccole dosi e quindi inutile per certi versi andare a cercare la causa di questo qualcosa che non funziona che non va perché è un problema ambientale cioè è un problema culturale è in tutti gli aspetti della nostra cultura che c'è questo piccolo grado di tossicità cinema letteratura notiziari informazione di vario tipo è lì che sta ogni volta questo piccola dose di tossicità che ti arriva e che poi tu inconsapevolmente usi nella tua comunicazione nelle due espressioni usare un linguaggio adeguato farsi delle domande sui termini che usiamo significa cominciare a eliminare questa tossicità perché tu diventi più critico nei confronti di quegli strumenti che banalmente usi tutti i giorni e che ti sembrano neutri ti sembrano fuori da questo discorso non ti sembrano quelli gli attrezzi con i quali tu discrimini o con i quali si fa discriminazione tra gruppi sociali mentre invece sono proprio loro i primi sono le parole che però non sono come dire termini tecnici che sarebbe facile individuare sono le parole di tutti i giorni le parole che noi espressioni che siamo abituatissimi a usare abituatissime a usare e che non ci rendiamo conto che possono essere discriminanti per qualcuno credo che vera nel suo intervento che abbia fatto eh diversi esempi a questo in questo proposto questo significa un'altra cosa purtroppo non sempre non sempre eh gradevolissima e cioè che eh stiamo inserendo nel nostro modo di comunicare il nostro modo di esprimerci quindi nella nostra comunicazione nel nostro lavoro di formatori di comunicatori una complessità ulteriore non stiamo rendendo le cose più facili le stiamo rendendo più complesse ma questa complessità è tale perché significa che noi impariamo più risorse impariamo più strumenti smettiamo di usare un linguaggio non paritario ma in realtà schiacciante cioè che livella tutto alla stessa soggettività ha sempre l'unica soggettività che parla quella più generica riconosciamo invece altre soggettività ed altre importanze perché in questo modo capiamo che ci sono più risorse a disposizione ecco perché non ha alcun valore il ritenersi indifferente a questi problemi ritenersi neutrali perché non può esistere una neutralità di fronte a questi tipo di problemi se tu pensi di essere indifferente inerte che queste cose non ti riguardino perché tu non fa male nessuno non sei violento non sei discriminatorio non pensi di agire questo tipo di forze diventi parte del problema perché quella parte che invece ne soffre vede il mondo diviso in due chi ce l'ha direttamente con loro e chi non fa niente per questo problema e sono due parti nocive tutte e due perché chi sente su di sé questa oppressione come dire vede uno come il proprio diciamo sì avversario nemico politico avversario sociale l'altro come quello indifferente che diventa un peso la realtà è che non può esistere una indifferenza riguardo questi argomenti proprio perché tu sei situato nel mondo secondo il tuo genere indipendentemente da quella che è la tua volontà essere nati con un certo corpo non è certo colpa di nessuno se sono nato fatto così nata fatta così però mi devo rendere conto che c'è intorno a una società che questa mia forma a questo mio aspetto a questo mio essere di un genere di un altro di un orientamento proprio di un altro dà dei valori e sono quelli che andrebbero messi in discussione perché qualcuno ha deciso che in un certo momento della nostra società della nostra cultura avere questo corpo mi dà dei vantaggi rispetto a chi non ha questo corpo da dove viene questa decisione che senso ha queste sono le domande da quali sono nate quei problemi che poi affrontiamo come questione di genere e scoprire che effettivamente chi ha un corpo diverso dal tuo vive effettivamente in un mondo diverso dal tuo non è una cosa che dovrebbe come dire schiacciare o far scappare in vista di questa enorme complessità significa che ci sono in realtà molte più risorse molti più punti di vista che potremmo imparare sullo stesso mondo che abitiamo che vediamo anche noi tutti i giorni e diventano risorse anche nei nostri ambienti di lavoro quell'ambiente che non riconosce tutte queste differenze cioè che non riconosce che l'ufficio il negozio il cantiere la palestra non sono la stessa cosa per tutti e tutte che frequentano questi ambienti perché hanno corpi diversi e il loro uso di questi ambienti è diverso per molti per molte quell'ambiente che a te boh non dice nulla o sembra un'esperienza piacevole per qualcuno è un'esperienza sgradevole e chi vive un'esperienza sgradevole tende a non voler tornare in quell'ambiente oppure a starci molto male a lavorare male a appunto non volerci tornare non a non adoperarsi per migliorarlo preferisce starne lontano cose che poi negli ambienti di lavoro diventano grossi problemi perché è anche questo credo che vera ve lo abbia detto in più modi il linguaggio è un comportamento cioè noi con il linguaggio facciamo effettivamente delle cose compiamo delle azioni che si possono fare solo attraverso le parole e quindi le parole non sono solo parole sono effettivamente cose che noi facciamo sostenere comunicare annunciare ordinare consigliare promettere accordarsi offrire ringraziare sono azioni che noi facciamo con le parole e farle con le parole giuste significa che queste azioni diventano efficaci funzionano e portano dei risultati questi sono comportamenti sono parole e lavorare per migliorare i propri comportamenti nell'ambiente di lavoro come nella vita di tutti i giorni significa essere più efficaci ottenere i propri scopi e ottenerli non a come dire sfruttando qualcuno o facendone pagare le spese a qualcuno ma invece coinvolgendo qualcun altro facendolo sentire partecipe facendolo sentire parte in causa di ciò che stiamo facendo eccola l'importanza di un linguaggio corretto ed eccola l'importanza che più o meno nei lavori di formazione e di comunicazione dell'adoperare un linguaggio e dell'informarsi sul linguaggio più adeguato a tutti i contesti e la soggettività che noi incontriamo prima di passare al momento successivo se volete cominciamo a farci un po di domande e a e a risponderci quella del linguaggio bellico è una osservazione molto molto giusta è la manifestazione di qualcosa di cui è un po forse sgradevole rendersi conto ma è una cosa quale ci dobbiamo rendere conto proprio per lavorare meglio in tutti gli ambienti che viviamo tutti i luoghi nei quali ci troviamo a vivere sono anche luoghi di potere che vuol dire luoghi di potere luoghi nei quali il dominio su quei luoghi è regolato da alcune convenzioni sociali anche la nostra casa è un luogo nel quale qualcuno ha un certo potere qualcuno ne ha un altro qualcuno ne ha di più qualcuno ne ha di meno e di per sé non è questa la cosa negativa la cosa negativa è quando questo potere diventa agonismo cioè diventa lotta per questo potere e quello è il problema perché non sappiamo distinguere nella maggior parte dei casi non sappiamo distinguere o peggio non vogliamo distinguere la guerra dal conflitto nella guerra una delle due parti deve soccondere la guerra finisce quando una delle due parti è definitivamente sconfitta morta completamente o completamente disfatta il conflitto è invece qualcosa che si può agire che si può manipolare ma bisogna essere in grado di farlo moltissime persone anche nelle organizzazioni gerarchizzate che dovrebbero essere costruite apposta per evitare certi conflitti in realtà si trovano davanti a grossi problemi perché non sanno agire i conflitti non sanno aprire un conflitto sano in modo che produca qualcosa di positivo per le parti in conflitto il conflitto in sé per sé non è di nuovo negativo significa che dobbiamo accordare i nostri poteri in modo che le cose funzionino bene però bisogna saperlo fare se una delle due parti vuole invece innescare una guerra cioè immagina il conflitto solamente come la soppressione di quell'altra ecco che ci sono i problemi perché in genere tra l'altro quella non è mai la soluzione appunto agire un linguaggio bellico non porta mai il risultato sperato per nessuna delle due parti perché poi scopri che in quel contesto in realtà quell'altro era qualcosa di utile era qualcosa che serviva e quindi tu non lo devi sopprimere non lo devi schiacciare non devi vincere devi trovare il modo giusto di condividere lo spazio di potere insieme a lui è qualcosa che è difficile far capire non solo nelle negli ambienti di lavoro ma pure in qualunque altro eh tipo di relazione per esempio è il problema che ha innescato il l'emergenza covid in tantissime case c'è voluta una come dire un divieto di uscire di casa per far scoprire a molte persone che la casa è un posto problematico per quanto riguarda il potere perché quando tu sei costretto a stare dentro casa e a portare certe attività che facevi fuori dentro scopri che non la puoi fare o non lo puoi fare nello stesso modo scopri che devi contrattare con gli altri abitanti della casa i spazi i tempi le azioni e questo porta a conflitti se non sei in grado di agire il conflitto aumenta spaventosamente aumentano spaventosamente come è successo i casi di violenza domestica perché non sei capace di risolvere quel conflitto e le cose sfociano in violenza questa è una cosa che accade anche sul luogo di lavoro eh se ne parla magari un po' meno o comunque finisce come dire si risolve attraverso altri canali ma è qualcosa che noi troviamo testimoniata dal linguaggio quella quella sensazione di linguaggio bellico che descrivevi è esattamente questo cioè il fatto che noi non in moltissimi casi non riusciamo a gestire un conflitto sappiamo solo cominciare una guerra e sappiamo solo immaginare la fine di un problema come la completa disfatta dell'altro che si oppone diciamo così e non ci viene neanche non ci passa neanche per l'anticamera del cervello come si dice che la soluzione potrebbe essere una forma di accordo per entrambi quella è la prima cosa che escludiamo e questo ci porta a impoverire molto le nostre esistenze eliminando costantemente chi invece forse potrebbe darci un punto di vista arricchente e diverso il caso dell'osservatore è una conseguenza in realtà di questo modo costantemente agonistico di porre le questioni sociali perché è chiaro che quando tu vedi due che stanno facendo la guerra non ti mischi perché lo sai che che brutta fine che potresti fare quella è una guerra se io mi mischio finisco magari posso finire male perché finisco nella parte che viene soppressa mentre invece nel conflitto tutto sommato posso provare ad agire perché capisco che forse c'è qualcosa che può al per il quale io posso essere utile o c'è come dire un qualcosa che io voglio preservare quel conflitto e quindi faccio sentire anche la mia voce come è giusto che succeda quello che succede in tanti movimenti sociali e in quelli che hanno cominciato una per esempio una eh una lotta per vedere riconosciuta anche nel linguaggio certe particolarità è appunto questa è appunto la volontà di dire guardate che ci siamo anche noi che vogliamo certe nominazioni che pretendiamo una visibilità necessaria altrimenti la nostra invisibilità diventa un ostacolo sociale eh faccio un esempio eh ma poi è credo qualcosa della quale vi ho parlato anche vera perché non è una una lotta inutile quella del femminile delle professioni perché finché io non distribuisco in maniera più uniforme il prestigio il piacere la presenza anche nominale di persone diverse all'interno di una professione quella professione continuerà a essere manchevole di professionalità l'Italia è un paese che produce poche scienziate che produce poche ricercatrici che poi quando vanno sui giornali o in televisioni sono la mamma scienziata la mamma astronauta la mamma questo non solo è cioè è un linguaggio sbagliato ma soprattutto perché è un racconto sociale sbagliato perché confina alcune esistenze solo ad alcuni ruoli sociali non permette e dice al resto della società che ruoli sociali diversi non sono permessi perché infatti non sono neanche nominati questa è un'azione sociale come dire questa è una guerra che non prevede le modalità di conflitto perché tu fai letteralmente non esistere una parte che non ti va di riconoscere che non ti va di valutare la scorsa settimana sono stato chiamato a parlare dalla fondazione dell'ordine degli architetti di Firenze sul fatto che è il mi pare il secondo ordine nazionale che prevede nel timbro che gli architetti come dire e le architette possono avere quando diventano professioniste il timbro legale che ha un valore legale appunto sui loro documenti il nome di architettà cioè il nome femminile e per quanto possa sembrare incredibile questa cosa ha sollevato enormi problemi cioè ci abbiamo fatto una conferenza su sta cosa alla quale c'ero io c'era pure vera c'era ha avuto una rilevanza nazionale il fatto che sul timbro c'è una parola italiana che semplicemente definisce una professionista che fa il suo lavoro e come ho cercato di spiegare qual è il problema è nella parola no non è la parola è nel fatto che se io faccio circolare questa parola io faccio circolare un'idea che potrebbe essere molto scomoda che per esempio un cantiere è governato da una donna che quindi sarà una donna a dire a muscolosi operai come devono mettere i mattoni quanti e dove è una donna che dirà al villoso guidatore di betoniera dove deve andare a scaricare il suo cemento forse è questa la cosa che dà fastidio ed ecco che ritorna il discorso di potere è questa la cosa la quale ci dobbiamo abituare no usare una parola oppure un'altra ma immaginare alcuni mondi alcuni ambiti alcuni luoghi di lavoro abitati da persone che noi non siamo abituati a vedere questa è la grossa difficoltà che è testimoniata da quel linguaggio a cui tu facevi riferimento e questa è un'abitudine dura a cambiare perché per molte persone fa parte della propria identità non essere comandate da un altro tipo di persona e questa è la cosa che dà fastidio no la parola cioè dietro alla parola c'è in realtà questo conflitto di potere questa guerra che prima o poi purtroppo pare inevitabile come dire scatenare però se invece noi la sappiamo gestire come un conflitto non ci sarà alcuna vittima queste figure in molti ambiti professionali e lavorativi sono previste dalla legge ma come al solito succede in italia si fa un po finta che come dire se ci si possa passare sopra mi hai ricordato che non più di giugno sì non più di un mese fa in una discussione in un ambito universitario una ragazza mi ha una studentessa mi ha più o meno proposto questa stessa situazione e gli ho detto scusa che che fa la eh ti sei rivolta all'ufficio per la difesa della dei paradiati diritti silenzio tombale nessuno sapeva che nell'università era l'università era una delle era Roma 3 nessuno sapeva che nell'università esiste la figura prevista dalla legge della del difensore della difensrice dei diritti e della parità di genere alla quale vanno eh come dire raccontate questi eventi e la quale può prendere dei provvedimenti di fare delle comunicazioni alle persone che non si comportano secondo la la più corretta appunto deontologia professionale anche riguardo alla varietà dei diritti e sono figure che sono previste dalla legge in molti ambiti in molti settori però le aziende italiane fanno sempre un po finta di niente mettono avanti i problemi eh di personale problemi di competenze e ne abbiamo già detto perché poi certe competenze non ci sono e fanno finta di nulla in realtà queste cose sono previste e però si fa finta di non saperlo e questo è un problema molto grave perché poi quando io cerco una sponda nel lavoro che dovrebbe essere quella che dà voce a questo mio problema e lo fa come dire lo racconta come un problema aziendale è un problema come dire eh della della posizione di lavoro della dell'azienda la quale stai e invece questa figura sembra mancare eh sottolineo il sembra mancare perché io sono abbastanza sicuro che ci dovrebbe essere almeno formalmente qualcuno qualcuna incaricato di di assumere questo compito e se non c'è è grave e anche questa cosa va denunciata apertamente eh la legge italiana prevede in tantissimi ambienti eh in tantissime aziende che ci sia mh chi si occupa di questi argomenti poi sta l'azienda a trovarlo ne sono abbastanza sicuro soprattutto ecco per forme come le cooperative che superano un certo numero di di dipendenti o che hanno un'organizzazione abbastanza grande sul territorio ne sono sicuro per le università ne sono sicuro per gli albi professionali ne sono sicuro per queste grosse strutture magari per la classica piccola media impresa italiana no o comunque con altre eh con altre eh modalità però ne sono abbastanza sicuro ma questo è un altro di quei problemi nel problema il fatto che non sai a chi appellarti le società e la cultura in cui siamo immersi prescrive e descrive dei ruoli sociali poi se dentro quel ruolo ci sta un uomo una donna un uomo omosessuale una donna omosessuale un cavallo un tavolino non è quella la cosa importante la cosa che va messa in discussione è quel ruolo perché se io a quel ruolo richiedo delle caratteristiche che hanno come dire come loro espressione un certo grado di maschilità tossica poi chi sta dentro quel ruolo non importa che sesso ha da dove viene si comporterà come quel ruolo prescrive ecco perché questi problemi sessismo sono del tutto trasversali ai generi ai e agli orientamenti perché non significa che sono cose che toccano qualcuno sì e qualcuno no a seconda di quello che c'è in mezzo alle gambe no c'è una società che preme per assumere certi ruoli per svolgere certi poteri e poi chi lo fa lo fa nella stragrande maggioranza dei casi c'è una particolare figura di genere che lo fa ma non è che le altre sono esclusi e quando ci si trova a doverli adoperare per avere un vantaggio e vengo al discorso dell'economia chiunque può ad opera questi strumenti di discriminazione e di prevaricazione sociale perché gli portano un vantaggio cioè il problema dello stereotipo del del luogo comune sessista del e che funziona perché se non funzionasse e chi se ne importa nessuno li usa e buonanotte invece funzionano e funzionano fino a che appunto hanno un potere efficace sulle persone per questo l'azione culturale di cambiamento è così lenta ed è così complessa perché si tratta di qualcosa che bisogna respingere come società come gruppo e il singolo ci può fare pochissimo è importante sì che ci siano dei modelli che ci siano delle figure ispiratrici certo che è importante però poi ciascuno di questo cambiamento lo deve fare nella sua realtà di relazioni di lavoro di vita quotidiana altrimenti il cambiamento sociale non non accade purtroppo per esempio se uno si vuole informare sulla storia sociale dei tacchi non la sa dove la trovo perché è una storia interessantissima perché i tacchi nascono mica nascono per le donne i tacchi nascono per gli uomini questa è la storia dei tacchi nascono per dare più rilievo alle figure regali e comunque di potere che volevano letteralmente alzarsi e avere una postura diversa e una posizione diversa nella camminata e nella appunto gestualità nei confronti delle altre persone che avevano intorno il tacco è dei re nasce come attributo dei re i re avevano le scarpe coi tacchi e poi questa storia è un po cambiata è la stessa storia del colore rosa il colore rosa era il colore della virilità era il colore della maschilità vincente era il colore della maglia rosa il ciclismo è il colore di tante società sportive di fine ottocento la sappiamo questa storia ci viene raccontata perché potrebbe essere molto utile per capire come si attuano poi certi cambiamenti sociali come accadono certi cambiamenti sociali invece non ci racconta nessuno sarebbero storie molto interessanti da condividere però è molto difficile invece averne accesso e la maggior parte delle persone pensa che i tacchi siano qualcosa di esclusivamente femminile e che nobili dalla figura femminile calma piano raccontiamoci la storia come come è davvero non è non è proprio così è andata in un altro modo quando scopriamo tanti simboli che noi attribuiamo a ciò che è maschile a ciò che è femminile la vera storia di questi simboli vengono fuori cose molto inquietanti e che faremo bene a condividere a sapere di più per renderci conto di quanto anche è facile manipolare una cultura attraverso i simboli ecco perché sono strumenti così potenti per far cambiare idea alle persone o per fargli credere che certe idee sono sono immobili non cambieranno mai sono naturali e invece non sono affatto naturali sono dati che a un momento sono sono entrati alla nostra cultura la tattica lo strumento che io adopero per far rendere conto qualcuno di qualcosa fino a che punto è efficace fino a che punto la possa usare prima che io mi trasformi in realtà in un analogo di quel comportamento che invece vorrei stigmatizzare in effetti quello che ti dà la misura dell'efficacia è appunto vedere se ottieni il risultato questo comportamento diciamo a specchio in alcuni casi può funzionare molto bene può far rendere conto la persona che hai davanti che come dire ha usato uno strumento perché si è arrogato un diritto senza chiederlo se però vedi che poi questa cosa è come dire in realtà inefficace perché non fa riflettere l'altro ma semplicemente ehm lo 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 per certo senso lo tranquillizza del non aver fatto nulla di di grave o di male e allora quello invece è l'indice che no lo strumento quello strumento non è sufficiente in alcuni casi può può essere efficace basta già eh una tattica specchio può funzionare se l'altro si rendere conto dove sta il problema l'importante è far capire dove sta il problema il problema è che ti sei arrogato un diritto che non hai quello di chiamarmi come se fossi l'amica tua è chiara questo è il problema se l'hai capito ok ne parliamo se questa cosa è stata inefficace cambia tattica perché come dire l'importante è che venga fuori il problema che c'è dietro il la questione da affrontare poi la tattica che usi può essere può andare bene anche quella tra virgolette del nemico della avversario l'importante è che sia efficace a non far capitare quella cosa un'altra volta a cambiare l'abitudine allora metodi e strumenti parliamo un po delle cose che si possono effettivamente fare che si possono effettivamente utilizzare innanzitutto in poi ne abbiamo già parlato una letteratura consolidata esiste c'è è numerosa poi vi faccio degli esempi vi faccio dei nomi dei titoli però ecco è una cosa interdisciplinare cioè non troverete non sarà facile trovare questioni di genere al lavoro a che bello eccolo qua e no non è una cosa così diffusa non è una cosa che si che si trova facilmente che alla quale sia ancora un facile accesso si tratta spesso di saper distinguere quelle voci un po come dire opportunistiche che ci sono già in questi argomenti e quelle voci che invece vengono da un'esperienza più robusta più consolidata più 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 efficace ma questo è come ho scritto lo specchio della situazione purtroppo quando non c'è qual una una tradizione culturale molto certa molto solida sei in questa situazione un po confusionaria va ricordato che l'invito a studiare ad approfondire questi argomenti non è presunzione da parte di chi magari fa formazione fa comunicazione ma è il metodo perché serve molta partecipazione da parte affronta questi argomenti nel nel appunto rendersene conto perché qualcosa che deve entrare anche nell'abitudine personale di ciascuno e quindi anche l'altro non può semplicemente accogliere delle cose che vengono da dal formatore dal comunicatore dal deve fare dei passi anche lui personali e magari ha bisogno del del sito dell'articolo del libretto ci sta però eh è sempre bene rivolgersi e poi vedremo da uno specifico che cosa intendo a qualcosa di eh consolidato perché si rischia spesso di prendere veramente grosse cantonate eh ripeto perché il problema è che siamo di fronte a una situazione estremamente complessa e come ho scritto le complessità vanno raccontate come complessità non vanno banalizzate facendole diventare una cosa ecco la guerra la guerra tra i sessi e no quella è una figura banalizzante no non la metafora non è quella non siamo in una guerra tra i sessi siamo purtroppo in una situazione parecchio più complicata come ecco per esempio diciamo prima c'è da gestire un potere c'è da ridistribuire diritti e comportamenti di potere e questo è decisamente più complicato che fare la la guerra tra maschi e femmine insomma è molto importante quindi mettere in campo esempi personali ed esempi presi da altre da cose che succedono in altre aziende eh perché in questo modo si riesce a porre l'attenzione sui problemi comuni che si affrontano riguardo le questioni di genere ehm perché come dire è importante raccontarsi anche tra situazioni aziendali diverse appunto le situazioni problematiche perché si scoprono le cose comuni le cose che si ripresentano in forme diverse in situazioni diverse quella meraviglia quello stupore che spesso può seguire a questa considerazione è l'inizio della comprensione che c'è un problema diffuso e che è lo stesso problema che si presenta tra i quadri in un certo modo tra gli impiegati in un certo modo nel negozio in un altro modo ma è lo stesso problema ed è questo aiuta a ovviamente affrontarlo eh la differenza come ho scritto no tra aneddoto caso strano ed esempio è appunto questa l'esempio è la cosa che ti fa riconoscere uno stesso problema che si presenta in diverse forme l'aneddoto il caso strano capita e è un racconto che come si dice lascia il tempo che trova non incide poi sulla tua reale pratica perché tu non te lo ricordi come modello di quello che è accaduto l'esempio è una cosa diversa è la cosa che ti fa capire che quella eh ciò che avviene nel luogo dove sei tu davanti ai tuoi occhi è l'ennesimo caso di quella stessa cosa che è accaduta prima questo purtroppo è eh un fenomeno che nella cronaca nel racconto di cronaca su tanti eh avvenimenti eh che riguardano le questioni o la violenza di genere eh accade purtroppo in maniera spiacevole e non permette eh di rendersi conto di certi problemi se io continuo a raccontare le violenze di genere come la cosa fatta dalla persona squilibrata dalla persona che ha perso il controllo dalla persona che viveva una situazione difficile e quindi non è riuscito a ragionare lucidamente continuo a confinare questi racconti nell'episodio nella cosa sicuramente tragica ma accaduta isolatamente per una disgrazia per una eh serie di vicissitudini uniche e forse irripetibili però quando dei femminicidi ce ne sta uno ogni due giorni tanto irripetibile mi sa che questa cosa non è perché non la racconto come invece il lo come dire il disgraziato esempio finale di qualcosa che inizia con altri comportamenti sociali il fischio per strada la pacca sul sedere alla collega quella è la strada che poi porta qualcuno purtroppo a immaginare la soppressione di un'altra vita come una delle possibilità che ha non bastano leggi e regolamenti per configurare i diversi comportamenti sociali perché se una legge eh come dire prescrive qualcosa di diverso da quello che è comportamento sociale la legge viene ignorata vogliamo fare l'esempio dell'evasione fiscale l'evasione fiscale è un comportamento sociale cioè è qualcosa che come dire molti e molte di noi hanno imparato come tra virgolette giusto da fare ed ecco perché qualunque legge tutti inventi sarà sempre inefficace perché se non cambia l'idea che c'è dietro ai meccanismi di tassazione la percentuale di tassazione è quello deve cambiare e allora le persone cominceranno non dico a pagare le volentieri tasse ma insomma ad avere un altro atteggiamento nei confronti della questione prelievo fiscale allo stesso modo finché c'è una cultura che alimenta certe disparità immagina come normali certi rapporti e violenti tra i generi io posso tirar fuori il dispositivo di legge che mi pare e immaginare e raccontare per esempio come una grande rivoluzione l'abolizione di certe leggi e l'ingresso di altre nella società hanno avuto effetto né nel senso che sì beh certo certe cose adesso sono punite sono perseguibili ma socialmente una certa idea di disparità tra uomini e donne di comportamento diverso nella relazione matrimoniale o comunque affettiva quella non è passata io per esempio me ne accorgo quando vado a scuola e con mio grande stupore vedo che ancora tra ragazzini e ragazzine l'idea che il fatto che lui abbia il controllo del telefonino di lei che gli dica come vestirsi dove andare quali luoghi frequentare quali amici vedere si è interpretato come un segno di grande affetto si è interpretato come sincerità di sentimenti è una cosa abbastanza ghiacciante che io mi domando ma com'è che nel 2021 ancora ragazzi e ragazze pensano questa cosa come qualcosa di sensato di vero evidentemente è molto più difficile cambiare una cultura che cambiare una legge ahimè i risultati li li vediamo ecco perché l'esempio personale l'esempio della cosa successa al collega la collega di qua di là è molto più importante spesso del costruire un regolamento del far accettare una legge certo che sono cose importanti che vanno fatti ci mancherebbe però quello che innesca il cambiamento sociale è non solo questo non basta assolutamente questo infatti una delle opposizioni che troviamo molto spesso che ci vengono dette molto spesso quando noi proponiamo questi cambiamenti è ma a me è successo il contrario ma mio cognato si è separato ed è diventato povero ma invece io conosco uno che prende le botte dalla moglie e allora vedi che succede pure il gli esempi al contrario non sono esempi che come dire smontano un racconto sociale sono esempi che dovrebbe essere usati per far vedere due cose come diciamo prima che la stesso tipo di violenza può essere agita anche da figure diverse che non è che se all'interno di un matrimonio è lei che prende un certo modo di comandare non è che sta facendo una cosa diversa si chiama maschilismo uguale pure se lo fa lei che non è che è la struttura di potere che è rimasta quella quindi non è che se la agisce lei non si chiama maschilismo uguale si chiama maschilismo lo stesso e secondo ricordiamoci che noi abbiamo socialmente molta difficoltà a distinguere per esempio la forza dalla violenza la violenza dalla reazione sono questioni estremamente delicate e complesse che andrebbero esaminate molto profondamente spesso invece nella chiacchiera facciamo e diciamo delle cose molto superficiali che ci sembrano argomenti validi per contrapporsi ad un'opinione ad un pensiero ad una legge o regolamento non è così bisogna affrontare queste complessità e rendersi conto della profondità necessaria ad affrontare certe certe situazioni eh tra le cose che possono proporre che propone chi fa formazione ma anche chi fa comunicazione c'è una letteratura poi ne parleremo piena di giochi attività perché che fanno riflettere su questi argomenti perché il gioco e l'attività perché eh la situazione ironica la situazione fatta per giocare tra di noi come dire costruisce un recinto uno spazio sicuro nel quale mettere alla prova certe dinamiche certi poteri nell'ambito della formazione sono attività importantissime ma anche nella come dire chiacchiera comune tra le persone perché non solo appunto far riflettere sul linguaggio è sicuramente una cosa economica basta carta e penna eh lo possiamo fare in qualunque ambiente in qualunque situazione ma perché la simulazione il gioco a fare certe cose è un'attività sempre molto istruttiva e che permette come dire di entrare in certe dinamiche senza spesso appesantire troppo appunto la partecipazione o la 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 il coinvolgimento emotivo delle persone si fanno e li ho fatti anche io in tanti luoghi di lavoro quei giochi che consistono nel mettere in scena certe situazioni nel replicare alcune situazioni che si usano eh nel lavoro quando posso è altamente istruttivo fare formazione negli stessi luoghi nei quali si lavora nel negozio nel magazzino nel punto vendita nella showroom perché fai vedere come accadono certe cose nello stesso luogo eh e questa situazione ironica cioè circoscritta a quel luogo è fatta per finta permette di far venire fuori molto spesso quelle eh dinamiche che in una analisi diciamo così lasciata ai testi o lasciata alle chiacchiere non viene fuori io ricordo quanto è stato utile in una attività di formazione fatta qui a Roma alla al gemelli all'ospedale gemelli quando nella simulazione appunto di certi rapporti ho ho preso una infermiera e gli ho detto di fare il dottore ho preso un dottore e gli ho detto di comportarsi come infermiera ovviamente i due si sono comportati non come effettivamente si comporta il loro collega la loro collega si sono comportati secondo lo stereotipo del dottore e dell'infermiera e lì è venuto fuori di tutto finalmente sono come dire sono stati messi in scena quegli stereotipi che erano la parte più sofferta del loro lavoro e del loro rapporto che in quella situazione come dire costruita appositamente sono venuti fuori in in libertà in ironia ma li si è potuti diciamo così cogliere sul fatto questo tipo di attività è estremamente utile quando si eh si cerca una uno strumento indiretto diciamo così per far venire fuori certi problemi per farli comparire perché in questa come dire in un'attività simulata ci si sente un po' più liberi ci si sente un po' più eh scansonati e però si riattualizzano quelle stesse dinamiche che noi poi eh subiamo o mettiamo in atto nella nella realtà eh questo perché perché eh una cosa molto importante da ricordare a tutti e tutte che come dicevamo prima non esiste una posizione neutrale o fuori da queste dinamiche da questi poteri perché eh in fondo ce lo siamo detto anche prima no nei commenti noi nasciamo eh con un certo apparato genitale ma poi c'è una società che ci dice come divento un uomo una donna cosa mi aspetto da chi mi dovrei aspettare da chi è di un certo genere di un certo orientamento e quindi questa forzatura in ruoli sociali non è evitabile da parte delle soggettività tanti dicono e continuano a sostenere ah ma a me interessa la persona interessa quello che sa fare non interessa se è un uomo una donna a me piacerebbe tanto che questa posizione potesse essere davvero sensata la realtà è che noi abbiamo a che fare con dei corpi che hanno un valore sociale per come si presentano io non posso evitare di percepire le persone come sessuate mica in difetto le persone sono così hanno le loro caratteristiche di genere e io non è per certi versi neanche giusto che faccia a meno di queste loro caratterizzazioni cioè di cui io dovrei fare a meno è il discorso sociale su queste caratterizzazioni quello che mettere un certo vestito avere i capelli di un certo colore eh indossare un un capo d'abbigliamento oppure un altro mi suggeriscono sulla persona e quella è la cosa che dovrei evitare non immaginare che esistano delle entità astratte fatte solo di di capacità e di meriti perché tra l'altro molto spesso quelle capacità e quelli meriti in realtà dipendono proprio da essere fatti in un certo modo da avere un certo corpo da presentarsi in un certo modo e quindi in realtà io sto come dire esaminando qualche cosa che un po' astrarsi poi dalla realtà fisica delle persone la difficoltà sta appunto nel fornire occasioni nelle quali queste caratteristiche queste differenze queste diversità tra ciascuna e ciascuna possono essere valorizzate e non livellate su una questione di competenze e di merito che poi alla fine sono astrazioni che forse tolgono come dire la parte più interessante della qualità delle persone che abbiamo davanti quella che appunto invece è più caratterizzata da loro essere unici fatti in quel modo eh pensati in quel modo se dicenti presentandosi loro stessi in un certo modo oppure in un altro ecco perché è molto importante che la formazione su questi argomenti e i discorsi su questi argomenti non siano cose una tantum ma da parte mia è facile dirlo e tu fai questo lavoro quindi ci stai dicendo eh vediamoci più spesso e fatti pagare più spesso sì in realtà sto dicendo anche questo ma è importante far capire che si tratta di cose che hanno bisogno di un certo tempo di sedimentazione in ciascuno in ciascuna è molto importante fare degli incontri darsi degli strumenti tirare fuori delle chiacchiere condividere appunto libri siti come poi faremo ok ma è molto importante per chi fa comunicazione per chi fa formazione in tutti gli ambiti decidere che ci rivedremo tra un po' non la settimana prossima tra un mese tra due mesi vediamo che è successo vediamo se è cambiato qualcosa vediamo se siamo riusciti a usare questi strumenti vediamo se perché proprio in virtù di quella ancora rarità di certe competenze di certe occasioni è molto importante fare rete cioè non perdere i contatti tra le persone interessate o che sono state toccate da questi argomenti e condividere quello che è successo anche quello che non è successo in questo frattempo per cercare di allargare la nostra capacità di affrontare situazioni diverse raccontandoci quel bisogno di esempi e di cose prese dalla nostra vita lavorativa e personale che dicevo prima si alimenta anche in questo modo raccontiamoci come poi è successo già oggi no nelle nostre chiacchiere tra un intervallo e l'altro le cose che sono successe per raccontarci più volte più occasioni più situazioni nelle quali siamo stati capaci o non capaci di usare uno strumento oppure un altro perché questo serve poi a tutti e a tutte quelli coinvolti e coinvolte per migliorare il loro modo di usare questi strumenti non evitiamo di entrare in polemica anche con qualcuno con qualcuna perché come dicevamo prima i conflitti si gestiscono quello che bisogna cercare di evitare a tutti i costi è l'indifferenza l'allontanamento il proprio non essere minimamente toccati da queste da queste da questi argomenti perché quella effettivamente è una posizione davvero di grande ostacolo e di grande impossibilità a gestire la persona uomo donna che sia inerte completamente indifferente a questi argomenti quello è veramente qualcosa di difficile da affrontare ma anche se c'è polemica anche se c'è discussione va bene così l'importante è appunto creare un terreno di confronto anche di scontro va bene ma l'importante è che sia un terreno comune anche se la realtà ti dice numericamente che il rapporto è diverso nella simbologia io trovo lo stereotipo purtroppo questa è una delle grandi difficoltà da affrontare lo stereotipo se ne frega della realtà lo stereotipo continua a raccontare quello che è comodo a una certa visione dei fatti anche se la realtà è diversa è una cosa di cui mi sono reso conto quando ho affrontato insieme all'agenzia pubblicitaria la questione della pubblicità delle automobili malgrado i dati delle assicurazioni ci dicono che le donne guidano meglio fanno meno incidenti sono più sicure al volante malgrado i dati di vendita ci dicono che le donne sono le principali acquirenti di automobili sono quelle a cui si intesta l'automobile anche sono quelle che dal cui conto corrente escono i soldi per comprare automobili le pubblicità sono soprattutto rivolte a un pubblico maschile perché è l'uomo che decide quale macchina comprare è l'uomo quello che ha il potere di di ultima parola su qual è il modello poi effettivamente di automobile che viene comprato ed ecco che quindi tu hai una pubblicità rivolta esclusivamente al pubblico maschile pure se i dati di fatto ti dicono altro ti dicono una cosa diversa il cambiamento in questo settore pubblicitario è qualcosa di molto molto recente e che dimostra quanto lo stereotipo sia potente ecco che tu mi hai raccontato un'altra esperienza nella quale pure se hai davanti un dato di fatto che dice una cosa poi in giro la simbologia che trovi ne racconta un'altra che non solo la donna che fa quel lavoro è rara è più rara è più difficile da trovare ma è fortemente sessualizzata no come se non non dovremmo mai dimenticare che sì pure se fa la macellaia pure se fa la pure se vende la frutta però quelle sono quelle le caratteristiche che la rendono interessante non il fatto che sa fare il suo lavoro e quindi per esempio ecco dovrebbe avere una divisa particolare che non dipende e sarebbe un discorso giusto dal fatto che un corpo ha fatto diversamente questo è uno dei problemi che si affrontano che affrontano le le industrie di prodotti per così per l'abbigliamento da lavoro cioè noi ce lo siamo scordato ma la povera Samantha Cristofretti nel primo viaggio nello spazio non ha potuto fare la passeggiata spaziale come tutti gli altri astronauti suoi colleghi perché non c'erano i guanti della sua misura quindi non stiamo parlando dell'abbigliamento che trovo qua al mercato eh stiamo parlando di roba per astronauti eh ci siamo dimenticati che c'era un astronauta fatta in quell'altro modo e noi gli hanno fatto la tuta fatta bene e i guanti della misura giusta lei ovviamente non ci aveva come dire non aveva pensato che fosse necessario dirlo ehi sono una donna ho delle misure diverse invece era necessario dirlo nessuno ci aveva pensato è incredibile ma la simbologia continua a raccontare qualcosa che spesso è completamente distante dalla realtà per quanto è potente il potere che i simboli veicolano ed ecco che io mi trovo in difficoltà cioè alla fine non so come avete risolto insomma il disegno uno se lo fa da solo perché dice non lo trovo e non c'è se voglio comunicare una cosa diversa almeno devo fare da solo sì è una cosa anche a me è successa in effetti nascerebbero in circostanze anche storiche e di strumenti diverse e però la convergenza è stata inevitabile quando si è visto che gran parte del late speech è il discorso sessista cioè è in effetti un discorso d'odio di un genere nei confronti di un altro genere e si è capito che forse stiamo parlando della stessa cosa in effetti molti interpretano le due cose come diciamo sì due varianti di uno stesso fenomeno di una stessa forza sociale in azione la discriminazione tra i generi passa molto per la pratica sessista del late speech cioè di indirizzare certi discorsi d'odio solo a persone di un certo genere in questi giorni mi hai sollecitato una cosa accaduta proprio recentissimamente voi sapete questo è il mese il pride month è il mese nel quale giugno si usa per manifestare in maniera particolare la la presenza di altre soggettività non binarie non etero e così via non è un caso che proprio in questo mese stanno sparendo perché come si dice inibiti dagli algoritmi dei vari social network tutta una serie di profili di donne giovani attiviste per i diritti homo b lgbt in genere appunto non è un caso evidentemente ci sono dei gruppi organizzati che hanno deciso di far convergere segnalazioni magari del tutto ingiustificate su certi profili in modo da poi far scattare dei meccanismi automatici che li oscurano che li disabilitano un certo numero di giorni impedendo poi queste persone comunichino proprio guarda caso in questo periodo in questo momento certi messaggi dove sta la questione di genere a me non succede anche io li faccio questi messaggi però nessuno mi viene a rompere le scatole con discorsi d'odio o con segnalazioni perché il vecchio maschio bianco etero è fuori da questo non è odiato non subisce quel tipo di speech per carità detto scusate la volgarità merda me ne diranno tanta anche a me però non raggiunge mai quel livello quella intensità quella specificità del quale invece sono oggetto donne donne giovani che evidentemente subiscono effettivamente una come dire una categoria a parte di 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 oppressione di questo tipo e quindi è facile che le due cose si sovrappongano quando ti accorgi che diventano strumenti per corpire effettivamente le stesse persone che quello che è abitualmente definibile comportamento sessista poi si concentra a un certo punto nel late speech perché io voglio colpire proprio come dire la parte discorsiva la parte espressiva la parte di comunicazione di certe persone che guarda caso sono quel genere e che fa quel tipo di comunicazione sarà un caso che non è un caso ovviamente ma insomma le due cose alla fine si vede che stanno convergendo nell'ultimo nell'ultima parte del nostro incontro appunto analizziamo bene quali potrebbero essere le fonti per 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 avere materiali cose da discutere statistiche cifre esempi tutto quello che ci può che ci può servire la prima raccomandazione è appunto quella di non come dire non improvvisare non non buttarsi diciamo così senza rete che sembra una cosa superflua però va ricordato che i discorsi di genere per quanto magari noi spesso vogliamo eh circoscriverli all'ambiente lavorativo agli esempi che si incontrano in certe solo in certe girarchie solo in certi organigrammi eh è molto difficile che non arrivino a impattare a colpire anche l'ambito personale l'ambito relazionale sentimentale emozionale quindi come dire eh è bene eh andarci sempre con i piedi molto cauti e ehm usare strumenti consolidati già noti e non mettersi a inventare eh argomenti o modi di argomentare o appunto strumenti eh soprattutto è sempre bene eh offrire una varietà di interpretazioni di possibilità proprio perché nel rispetto di quella complessità che abbiamo descritto prima eh piacerebbe anche a me che ci fossero delle cose come dire dogmaticamente di base e ovvie eh da dire che sono sicure e che sono mh certe eh nel loro funzionamento non è così eh purtroppo molto del lavoro da fare sulle questioni di genere è sempre un adattamento alla situazione nella quale ci troviamo che ha come dicevamo prima sicuramente delle caratteristiche generiche che possiamo condividere con altre situazioni con altri momenti con altri esempi ma anche altrettanto sicuramente delle particolarità tipiche di quell'azienda di quell'ambiente di quel modo di suddividere il lavoro che eh richiedono sempre uno sforzo di adattamento eh particolare. Eh ecco perché nei materiali di cui poi vi parlerò eh bisogna selezionare cose eh è giusto selezionare cose che vengono da fonti insomma note eh e poi vedremo come si fa a capire che una fonte è nota e attendibile proprio perché eh in realtà altrove in altre tradizioni di studio in altri paesi esistono metodi consolidati perché sono cose che si fanno da più anni rispetto a noi con più esperienze rispetto a noi e quindi non si va del tutto diciamo così alla cieca però eh è necessario ricordarsi che un certo lavoro di adattamento alla nostra situazione va comunque fatta proprio perché tanti femminismi lo insegnano è necessaria una pratica diffusa poi nella situazione locale che sarà sempre un po' differente dalla dall'esempio che strutturato che già che già troviamo che già abbiamo ecco perché eh no scrivo questa cosa che può sembrare strana va bene l'esempio prezzo dalla propria vita quotidiana ma non la raccomandazione sulla base delle proprie esperienze perché bisogna sempre evitare quell'atteggiamento appunto dogmatico che in realtà è la cosa sulla quale cerchiamo di porre l'attenzione quindi non mettiamoci noi in primo luogo come quelli che dicono come vanno fatte le cose perché la cosa il problema che dovremmo condividere è che la soluzione che va bene in tutte le cose non c'è ci sono una serie di strumenti che possiamo mettere in campo per capire meglio la situazione e trovare la soluzione più adatta ma non c'è la 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 ecco no parlavamo prima di tossicità non c'è l'antidoto non c'è ancora il vaccino perché non è un virus purtroppo eh per cui tu hai individuato la gente patogena cerchi di colpirlo è una cosa diffusa in un ambiente e ogni volta bisogna capire cosa l'attiva cosa non l'attiva dove si raccoglie dove si raccoglie in ogni eh situazione differente come si fa a scegliere i nomi di queste fonti attendibili proprio perché purtroppo la situazione italiana è quella che ancora non ha a disposizione diciamo così una una certificazione certa un titolo di studio attendibile una 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 specializzazione acclarata su questi argomenti è molto importante capire la storia individuale di ciascuna di ciascuna io ho una persona come come lui sa come Rizzidelli e dico ecco questa è una persona che che posso stare a sentire perché la sua storia mi racconta che ha avuto esperienza e pratica ad alto livello di un ambiente problematico lo sport professionistico femminile o meglio sedicente professionistico perché poi il problema è che professionistico non è eh cioè appunto quando poi io vado a vedere qual è la situazione contrattuale retributiva ehm delle leggi che regolano quell'attività sportiva e scopro che è un professionismo a parole e che quindi come dire il problema di genere eh scatta perché vengo a sapere che si tratta di una situazione molto lasciata così a non dico allo sbando ma so più o meno comunque ad una eh sregolazione eh delle parti in causa che poi produce disparità disparità molto gravi e perché allora vado da lei perché vedo la sua storia e so che è una persona che è passata con la sua esperienza di vita per quella esperienza ne ha tratto qualcosa che poi ha voluto fare anche la sua vita successiva cioè adesso è a capo di un'associazione che si batte appunto per questo e per altri problemi con una conoscenza evidentemente come dire dall'interno che eh è molto difficile che abbia qualcun altro e qualcun'altra proprio perché fa parte della sua vita allo stesso modo non ci dobbiamo stupire che tanta competenza tante parole tanti materiali su questi argomenti vengano da persone per esempio del mondo LGBTQ cioè non è una moda è quando hai subito su di te una certa serie di discriminazioni che hai affinato una sensibilità per coglierle anche in quei momenti in quei frangenti di vite diverse dalla tua fatte da persone diverse da te che però loro non hanno sviluppato questa tua stessa sensibilità allora hai quegli strumenti per poter dire anche a chi appunto non è diciamo così come te non ha la stessa tua diversità la tua stessa caratteristica guarda che quel problema è questo problema qui è un problema di genere quella frustrazione che senti sul lavoro quel senso di insoddisfacimento per certe cose guarda che viene da un ambito che riguarda le questioni di genere purtroppo siamo immersi in una narrazione culturale che invece continua a dirci molto spesso di prendere le distanze da questo tipo di esperienze da questo tipo di diversità da queste persone che vengono apparentemente da questi mondi lontani e sconosciuti ma non sono mondi a lontani mondi lontani sconosciuti sono il nostro stesso mondo però vissuto da chi non lo vive come noi per tutta una serie di differenze e questo quel contorto modo di raccontare il cosiddetto politically correct che fa tanto male è chiaro che è la persona diversamente abile che sa riconoscere quando è che l'argomento su di lei diventa oppressivo discriminatorio me lo deve dire lei e chi altro modo me lo potrebbe dire e quindi è lei che mi dice guarda che questa formula linguistica quest'altra non mi descrive appieno oppure guarda che questa formula linguistica che ti sembra corretta in realtà ripropone quel problema che io cerco di eliminare o che dovremmo eliminare per affrontarlo sensatamente quando da quest'altra parte qualcuno risponde dicendo eh vabbè ma non si può più dire niente no guarda che queste persone queste altre soggettività non ti stanno dicendo di stare zitto ti stanno dicendo guarda che se parli del problema in questo modo riproduci il problema e questa è la questione dietro le tante ghiacchie le spese su politically correct e poi anche sulle azioni che si fanno in corrispondenza di questo linguaggio l'esempio che porto nelle slide è quello della della terra rotonda la terra è sempre stata rotonda e i greci erano arrivati a capirlo e a misurarlo poi noi siamo stati tranquillamente secoli in una cultura che invece ci ha raccontato che era piatta e che per tutti era piatta se è chi comanda che ha una certa visione del mondo è la realtà può essere qualunque vincerà quella visione del mondo perché la visione di chi comanda perché anche su un qualcosa di così come dire scientificamente lampante tanto che era lampante pure agli antichi greci che certo tecnologia ce n'avevano mica tanta che la terra fosse tonda noi abbiamo pensato per secoli dopo di loro che invece fosse piatta perché evidentemente ha vinto una narrazione diversa la narrazione di chi aveva le redini del potere di chi aveva la capacità di influenzare la cultura della sua epoca e ha raccontato che la terra era piatta e la terra era piatta punto e basta è stato necessario un altro cambiamento epocale un altro tipo di rivoluzione finalmente per arrivare alla dimostrazione inattaccabile che la terra è rotonda eppure ancora oggi c'è un sacco di gente convinta che sia piatta segno che ripeto la scienza poi ci può come dire la realtà ci può mettere di fronte alle cose più lampanti ed evidenti c'è comunque un altro passo da fare di rivolgersi a quelle persone che sono state capaci di fare esperienza di certe cose e di e che hanno la volontà di raccontarle di farne impegno di farne attività questa per il momento purtroppo è la strada da intraprendere mancando come abbiamo detto prima di qualcosa di istituzionalmente consolidato di una editoria molto più diffusa di un questo purtroppo per quanto riguarda le questioni di genere ancora non ce l'abbiamo in italia quindi bisogna rivolgersi a persone che hanno una certa storia della quale ci possiamo fidare diciamo così e purtroppo questo vuol dire pure che a volte dobbiamo fare ricorso a fonti non scritte nella nostra lingua perché in inglese e in francese di materiale ce n'è tantissimo e anche nei consigli che vi darò adesso tra poco alla fine c'è qualcosa in altre lingue è abbastanza inevitabile perché quel problema di mercato editoriale è anche questo tradurre costa e pochi sono gli editori che si impegnano a pagare una traduzione per offrirla a un pubblico che per ora su questi argomenti è ancora molto diffidente ancora molto lontano ancora non ha magari capito l'importanza ecco che no diciamo prima ecco che entra anche l'economia pure in questi discorsi e fino a che non ci sarà non sarà cresciuto un pubblico numericamente desideroso di informarsi di certe cose non si avvierà una produzione editoriale e culturalmente raffinata per questo pubblico noi in Italia siamo ancora in questa situazione ancora deve scattare questo meccanismo virtuoso per cui tante persone chiedono una certa competenza una certa un certo discorso culturale si attivano alcune produzioni che offrono a questo pubblico questo questa possibilità noi in Italia abbiamo una sola casa editrice specializzata in questioni di genere fatta da poi ne parleremo se volete fatta da una sola persona cioè proprio lei Monica che fa tutto lei sceglie i testi si occupa dell'impaginazione si occupa della produzione della distribuzione proprio lei da solo segno che come dire cioè brava e meno male che c'è lei ovviamente ma segno che evidentemente ancora è qualcosa di purtroppo piccolo marginale che non è pronto a buttarsi diciamo così verso un grande pubblico a queste fonti a queste fonti prese da da culture diverse ovviamente ovviamente vanno manipolate con una certa attenzione per esempio sono cose che vanno calate anche in quella cultura è molto facile prendere esempi virtuosi dal mondo anglosassone dal mondo francese ma ci dobbiamo ricordare che lì la storia culturale è molto diversa dal mondo americano ma la storia culturale è molto diversa perché alcuni problemi di genere che noi vediamo molto evidenti altrove possono non averli più perché culturalmente in quella situazione sono andati più avanti oppure quel problema si è trasformato in un altro problema allora noi non lo vediamo simile perché è diventata una cosa molto diversa quando per esempio eh ci arrivano eh strane inquietanti eh statistiche sui sui crimini e sulle violenze di genere da paesi del nord noi ci stupiamo e diciamo ma com'è che sono così numerosi ma no io noi sapevamo che questi paesi sono avanzati nella legislazione nella parità com'è che ci hanno queste cifre così spaventose dobbiamo calarci in quella realtà culturale proprio perché sono più avanti nel discorso sociale su questi argomenti le persone soprattutto le donne denunciano molto facilmente crimini e azioni violente a cui sono sottoposte e quindi alzano per esempio un livello statistico evidente qual è quello delle denunce in Italia denunce ne abbiamo molte meno e qualcuno dice ah vedi allora da noi le cose vanno meglio no non è che le cose da noi vanno meglio da noi c'è una cultura che letteralmente impedisce rende difficoltosa la denuncia di certe violenze di certi crimini e quindi da noi il numero inferiore non dice che le cose vanno meglio dice che le cose vanno peggio perché noi siamo ancora in un retaggio culturale che rende la denuncia una vergogna per la donna che denuncia o anche per l'uomo che denuncia eh molti uomini subiscono tutta una serie di violenze legate al loro genere e non riescono neanche a raccontarli perché non hanno intorno a sé competenze pronte a raccogliere quel tipo di violenza numericamente inferiore ma comunque esistente ma noi non siamo ancora in grado neanche di raccoglierla ecco perché scrivo attenzione alle statistiche le statistiche dicono in genere qualcosa di reale qualcosa di sincero ma poi vanno calate nella realtà opportuna se no capiamo letteralmente fischi per fiaschi ed ecco perché ha a grandissima importanza in questa situazione lo scambio di esperienze aziendali sono ancora un po poche le organizzazioni e le società che hanno deciso da noi di eh lavorare su questi argomenti ma è sorprendente eh come dire quante sono e soprattutto come dire mh è sorprendente notare che questi problemi queste situazioni sono presenti anche in situazioni che noi non ci eh aspetteremo quando eh sono stato chiamato a collaborare con una grande ONG internazionale che occupandosi di diritti e di eh come dire di di aiuto a persone particolarmente bisognose io sinceramente non immaginavo che eh avessero bisogno di un supporto su questi argomenti perché li immaginavo e sbagliavo come qualche cosa di dato per scontato nella loro organizzazione non era così come è successo eh appunto vi raccontavo prima in una università dove il numero di casi eh era così eh come dire notevole che la figura pure istituzionale che esisteva della della persona che si occupa di di questioni di genere di eh parità dei diritti in università non era sufficiente hanno pensato a facciamo un corso apposta in modo che noi formiamo le persone che poi al nostro interno si occuperanno di queste cose questi sono esempi che è molto salutare è molto eh interessante diffondere e raccontare proprio perché fanno capire e questo insomma mi sembra apparso abbastanza chiaramente nei nostri chiacchi di stamattina che parliamo di qualcosa di assolutamente trasversale cioè che non come dire non per il lavoro che si fa non per le esperienze che si hanno non per quanto sia grandi o piccoli come azienda come organizzazione ci si può pensare immuni o fuori da dalla necessità di occuparsi di queste di queste cose per fortuna in Italia le cose si stanno cominciando a muovere diciamo così molto molto bene la la situazione nella quale siamo è certo è quella del di un territorio ancora abbandonato desolato cioè chi si occupa di questi argomenti ha la netta sensazione di muoversi eh in un deserto eh è così nel senso è esattamente l'immagine giusta eh abbiamo una sorta di nulla davanti a noi eh poche esperienze pochi strumenti pochi esempi poche poca rete ancora diffusa eh cerchiamo di vedere la cosa dal lato negativo perché appunto mancano tutta una serie di strutture che sarebbero molto utili però c'è anche un lato positivo qualunque cosa facciamo è qualcosa che si rivelerà utile per noi stessi e per gli altri che si occupano di questi argomenti cioè proprio perché è un deserto tutto sommato qualunque cosa facciamo sarà una cosa utile e fatta diciamo così comunque bene che migliorerà questo ambiente in ospitale lo renderà eh più favorevole a a chi viene dopo o a chi già si sta occupando di questi argomenti e vuole scambiarsi metodi strumenti e strategie perciò appunto anche se la cosa può sembrare a volte scoraggiante e desolante eh cerchiamo di approfittare in un certo senso di questa situazione pionieristica nella quale nella quale ci troviamo ecco che vi faccio qualche nome qualche esempio di di fonti eh veri e propri eh dei testi di vera che no immagino che appunto visto che ci avete già parlato li conoscete già eh vi consiglio lei anche il lavoro di seguire per quanto riguarda le questioni linguistiche e di pratica linguistica i lavori di Graziella Priula qui vi segnalo un suo libro ma ne ha fatti anche molto altri interessanti sette nove è appunto la casa editrice di cui vi parlavo prima l'unica casa editrice italiana che occupa esclusivamente di questioni di genere fa saggi fa narrativa fa strumenti per i più piccoli per le scuole eh produzione di ogni tipo eh è inutile dirvi che però consiglio caldamente diciamo così per ogni occasione vi possa vi possa tornare utile scrivo anche come consiglio il il dizionario degli insulti eh perché i dizionari degli insulti sono strumenti che esistono nella nostra lingua ce ne sono più di uno sono oltre ad essere libri estremamente divertenti che sono cataloghi ragionati di parolacce descrivono mh una situazione sociale molto eh particolare molto interessante è facile attraverso questi strumenti rendersi conto di quanto l'insulto che noi molto spesso usiamo come intercalare come così parte apparentemente discorsiva o riempitiva della nostra comunicazione nella stragrande maggioranza dei casi la nostra lingua è diretto a corpo delle donne il pensiero delle donne le azioni delle donne e ci sarà un motivo per cui c'è questa preponderanza numerica di queste espressioni rivolte sempre solo quasi sempre solo esclusivamente a un solo genere la storia degli insulti che voi trovate raccontata in questi dizionari è molto illuminante su come si configura socialmente una discriminazione proprio perché racconta come una parola magari nata in un ambiente tecnico molto esclusivo diventa poi di uso comune e di uso però discriminante insultante una di queste è isteria isterico la storia della parola isterico è agghiacciante nella sua origine nell'uso che se ne fa non me la voglio ascennare ve la lascio la vostra scoperta ma inquietante nei suoi significati nella storia che ha come inquietante la storia della parola femminismo che nasce anche quella come una definizione medica alla fine dell'ottocento per indicare il problema che avevano certi uomini che si comportavano come donne la parola femminismo nasce per identificare questo questa situazione sociale poi ha avuto una storia molto diversa ed è di nuovo inquietante preoccupante vedere tanti giovani e tante giovani che cominciano a usare questa parola con un vero e proprio insulto ma che sei femminista oppure te resti come una femminista queste sono cose che si scambiano molti giovani tra di loro segno che evidentemente purtroppo la parola femminismo la parola femminista femminista è diventata anche uno stereotipo cioè è diventata una immagine sociale che prescrive un certo corpo certe abitudini un modo di vestire evidentemente un modo di e questo pure dovrebbe farci riflettere parecchio sui metodi e strumenti consiglio questi due testi di ballista e pinnock e l'altro di gamberini e borgato che sono proprio borgato che sono proprio elenchi di attività giochi cose che si possono fare anche nell'ambiente aziendale per riflettere sulle sulle questioni di genere sono giochi o esclusivamente come dire verbali che si possono fare facilmente con carta e penna ma anche se avete a disposizione degli spazi più grandi e riunendo le persone quando si potrà riunendo le persone in un ambiente e facendogli fare degli delle interessantissime attività che mettono proprio in campo quelle forze un po' nascoste nei nostri eh ruoli sociali legati legati al genere eh e la network è una eh presenza su molti social eh che raccoglie un po' di questi metodi questi strumenti è un'iniziativa nata nell'ambito della del marketing e della comunicazione pubblicitaria che però poi ha raccolto tanti altri contributi esplorare i loro spazi virtuali eh fornisce un sacco di materiali utili a discussioni o a confronti su questi su questi argomenti per quanto riguarda proprio le le fonti vere e proprie io vi indico eh questi primi due libri quello di Volpato e quello di Pacilli eh come non solo eh raccolte di argomentazioni molto interessanti riguardo le questioni di genere ehm eh facilmente leggibili e comprensibili senza essere come dire eh tecnici o o o particolarmente preparati nel settore soprattutto perché sono due libri che hanno una ricchissima bibliografia e che quindi potete usare non solo per come dire trovare un approfondimento riguardo magari a un particolare problema una particolare versione di un problema di genere che vi interessa ma sicuramente ci trovate altre fonti molto più approfondite e eh diverse per appunto andare più eh nello specifico riguardo un particolare problema che può essere il sessismo al lavoro il sessismo della comunicazione del linguaggio eh la 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 forza degli stereotipi e la loro capacità di riprodursi come eliminarli magari dalle pratiche o dalle discussioni ci trovate sicuramente un sacco di strumenti e di fonti utili. Bossi.it è un sito nel quale eh un gruppo notevole di persone tra cui anche io scrive di questi argomenti e trovate eh articoli molto brevi molto eh facili comunque tutti molto ben eh documentati su gli argomenti più eh pop diciamo così che possono riguardare questi questi eh le questioni di genere canzoni, musica, letteratura, cinema, quegli aspetti più eh comunemente magari culturali che però hanno i loro versanti problematici che vanno che vanno affrontati e il sito di Bossi è una buona idea per per eh per partire con 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 analisi e con intuizioni su questo su questo ambito. Il manuale di di Avallone è il classico manuale di psicologia del lavoro cioè un bel mattone altro così che riguarda la psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Io ve lo segnalo perché sicuramente tra tutti quelli che ho letto il più attento alle questioni di genere non le mette lì come una appendice agli altri discorsi. Ah sì c'è pure questa cosa ma c'è eh l'autore e i suoi collaboratori hanno cercato proprio di eh mettere le questioni di genere in mezzo ai discorsi già consolidati perché sono già consolidati di psicologia del lavoro eh psicologia delle organizzazioni facendo di questo manuale qualcosa di eh ahimè abbastanza costoso perché ripeto è un bel manualone grosso ma sicuramente molto utile per mh affrontare alcuni problemi tipici poi delle delle situazioni di lavoro e delle grandi organizzazioni secondo un'ottica eh che ha sempre presente il il genere. Queste sono le le indicazioni che avevo preparato. Non ci dimentichiamo che la scuola è una grande istituzione pubblica che purtroppo si muove con gli ostacoli con la lentezza tipica della grande istituzione pubblica. Eh cose stupende si fanno nelle scuole ma continuano a essere iniziative sporadiche prese da qualche eh gruppo di persone molto fortemente motivato che riesce a fare dei progetti bellissimi però il grosso è quello che hai descritto tu. Ancora abbiamo ancora si usano strumenti che che danno veramente una sola visione del del mondo che non tengono conto di altre presenze perché poi molti dicono eh vabbè ma le scrittrici sono di meno le poetesse sono di meno le filosofi sono di meno e tu ha voglia di dirgli no non è che sono di meno è che si conoscono di meno è che è tutto un altro problema non è soltanto il numero che comunque è inferiore anche per delle motivazioni sociali ben definite no sempre le donne hanno hanno la possibilità di studiare soprattutto in passato hanno avuto la possibilità di studiare eh eh indottrinarsi eh frequentare scuole e università primo secondo appunto è il loro numero è comunque sicuramente maggiore di quello che viene rappresentato il problema è che non si non si conoscono non si vengono a sapere io posso raccontare di una cosa di cui mi sono accorto e sulla quale sto lavorando nel mio particolare campo quello della filosofia eh i manuali di filosofia sono ancora privi di donne sostanzialmente privi di donne filosofi se non nell'ultimissimo negli ultimissimi decenni della nostra storia e questo dà l'idea che che le donne filosofiano l'hanno mai fatta poi scopri quando riesci per esempio come me a fare degli studi più approfonditi che la realtà è un'altra banale ma terribilmente efficace che le donne che hanno sempre fatto filosofia dai tempi appunto della grecità classica del mondo classico non si chiamavano tra loro filosofi e quindi se come è successo chi scrive le storie della filosofia cerca solo all'indietro nel tempo chi si è nominato filosofo e chiaramente trova solo uomini perché le donne facevano letteralmente come dire un altro lavoro e facevano poi pure filosofia quindi le donne che fanno filosofia le devi cercare per esempio come badesse istitutrici eh donne di di alto livello principesse eh contesse marchese che hanno quindi la possibilità di sempre studiare e accedere ai libri sono tutta una serie di donne che invece erano custodi di libri bibliotecarie che quindi leggevano studiavano e traducevano e quindi facevano filosofia perché per tradurla la dovevano capire la dovevano imparare ma se per esempio pensa anche a questo problema non teniamo conto degli epistolari come testi importanti e quindi non andiamo a vedere nelle lettere che noi releghiamo un ambito privato cosa facevano filosofi e filosofi donne scopriamo che nella corrispondenza un sacco di personalità grandissime erano interlocutrici di filosofi che però non facevano i filosofi di professione ovviamente ma portavano argomentazioni di altissimo livello che hanno aiutato molti filosofi a chiarirsi certe cose a parlarne meglio o hanno portato all'attenzione di un filosofo il filosofo di un altro paese che scriveva in un'altra lingua che quindi era apparentemente inaccessibile questi sono contributi che tu scopri perché approfondisci gli studi ma anche tu nei manuali che correntemente trovi in giro non sono raccontati e quando scopri che questa cosa è successa non solo in filosofia è successa nella storia anche di quelle che chiamiamo scienze esatte è successo nella biologia è successo nella matematica è successo nell'ingegneria è successo nella chimica la cosa comincia a farsi allarmante qui ci sono eserciti di scienziate studiose che non si riesce neanche a nominare cioè non si riesce neanche a tirar fuori i nomi e tutti i contributi che hanno che hanno dato e quindi poi tu non le ritrovi anche nel più manuale scolastico più 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 tranquillo perché semplicemente non sono state consegnate alla storia della loro disciplina ma non perché non l'hanno fatta ma perché la lente che le andava a cercare l'occhio che andava a vedere letteralmente non le poteva vedere perché cercava un'altra cosa e quindi tu costruisci generazioni di ragazze che pensano che quella cosa per loro non va bene e ce ne ha fatta nessuna e sarà una cosa che per me non va bene e non trovo nessuna che la fa ecco a proposito di condizionamento questo è un fortissimo condizionamento e sono soprattutto due degli argomenti da usare uno le organizzazioni che prendono sul serio le questioni di genere perdono meno competenze il fatto di eh come dire non accorgersi di quanti stereotipi guidano la selezione del personale la scelta del personale la semplicemente il modo di comunicazione tra persone e poi dopo ti faccio un esempio ehm come risultato ha che le organizzazioni non si accorgono o perdono tutta una serie di competenze che hanno al loro interno che potrebbero sfruttare di cui non sono non vengono a conoscenza perché queste competenze vengono proprio da persone che hanno una formazione diversa che hanno lavorato in maniera diversa perché sono stati posti degli ostacoli diversi al loro cammino aziendale perché appunto per esempio sono donne e quindi tutta una serie di eh competenze di capacità che tu hai non le sfrutti non le usi e questo produce una perdita economica perché spesso molte aziende si rivolgono all'esterno per acquisire delle competenze non sapendo che le hanno già perché non hanno mai messo in atto degli strumenti che gli permettono di rilevare che hanno queste competenze queste capacità questi desideri queste prima primo argomento eh uno degli strumenti che introduce quest'argomento è la questione de di chi interrompe il discorso quando tu in un consesso soprattutto di altri dirigenti gli fai vedere studi alla mano e pratica alla mano che gli uomini interrompono le donne e non è una battuta è quello che effettivamente accade costantemente in ogni situazione di riunione assemblea la maggior parte nella maggior parte dei casi gli uomini dicono ah sì ho capito ah vabbè ho capito quello che vuoi dire sì va bene abbiamo capito interrompendo il discorso delle donne la conseguenza nociva per l'azienda è che quella persona quella donna non parla più non presenta un'idea non presenta più una sua idea quando viene in mente non presenta una soluzione a un problema non presenta un progetto che potrebbe rivelarsi vincente perché è stata zittita troppe volte e tu inibisci la sua capacità di presentare una idea una un progetto desiderio e questa è una perdita per l'azienda primo argomento secondo argomento è stato anche questo dimostrato con fior di studi numeri e casi studiati che le competenze diverse da quella che è la male leadership tradizionalmente come dire intesa to cure come leadership sono quelle che servono di più nei momenti di crisi di trasformazione di cambiamento per me pare che questo sia uno di quei periodi non sono grande esperto dei dinamiche aziendali ma qualcosa mi suggerisce e questo è uno di quei momenti questo è uno di quei momenti nei quali si vede chiaramente che chi per caso per scelta ha più donne dirigenti competenti o comunque persone che non si riconoscono nella male leadership a più persone di questo tipo negli organismi direttivi nelle parti dirigenziali risolve prima meglio i suoi problemi cambia e si adatta a un mercato diverso una situazione politica economica sociale diversa più rapidamente più vantaggiosamente rispetto ad altre aziende questi sono risultati certi studi effettuati sono realtà non sono escamotage sono cose sono avvenute e che fanno ormai letteratura proprio perché questa diversità nella managerialità permette di all'azienda di avere più competenze più risorse più facilità trasformative tutta una serie di caratteristiche vantaggiose in più che poi producono risultati aziendali non solo producono tanto benessere e tanta voglia di lavorare in più in chi sta nell'organizzazione che già di per sé potrebbe essere un risultato ma producono effettivamente risultati aziendali migliori e questo è qualcosa di accertato è i riferimenti li trovate in quei due testi lì di Paciglio e Volpato cioè sono proprio studi fat seri e acquisiti che hanno spinto ormai per esempio tante aziende del mondo anglosassone più o meno come dire volontariamente ad attuare certi cambiamenti nei loro organigrammi nei loro metodi di reclutamento nei loro metodi di verifica delle competenze interne nel in tutti questi casi nei quali si è visto che il come dire il pregiudizio di genere disturba diciamo così altera ecco i risultati di di certe visioni e di certa leadership quindi non sono cose appunto argomenti da usare per ottenere attenzione sono proprio risultati tangibili che documentati la parola giusta è il rischio ed è una percentuale di rischio che c'è sempre perché tu stai manipolando qualcosa che non è come dire strettamente tecnico all'ambito lavorativo come funziona un certo apparecchio ci sono delle istruzioni le istruzioni in sé sono un po' esettiche arrivo io e te lo spiego te lo faccio vedere la formazione è migliore quando si tratta di questi argomenti coinvencimento personale molto personale molto intimo è inevitabile perché stai parlando dell'identità di genere di ciascuno e di ciascuna non la puoi costringere più di tanto all'ambito lavorativo perché tutti si accorgono che stai parlando sì certo a dell'ambito lavorativo ma parli pure di cose che poi uno si porta presso quando esce dall'azienda e vive tutti i giorni per cui quel rischio c'è sempre va corso perché come dicevo prima poi ti devi calare nella tua realtà e cercare di capire qual è la cosa più effettivamente efficace io ho visto che certi apparentemente giochi che possono sembrare sì qualcosa di macchiettistico anche questa parola la trovo molto azzeccata però poi si sono rivelati efficaci perché in quella dinamica le persone hanno tirato fuori la cosa problematica che si portavano dentro e hanno capito come affrontarla perché quando hanno giocato ad assumere dei ruoli per esempio hanno capito che si trattava di ruoli che nessuno ce l'aveva con loro il problema è il ruolo allora è arrivata all'illuminazione cerchiamo di cambiare come funziona questo ruolo se io cambio come funziona il ruolo le cose cominciano ad andare a posto ciao 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 ciao